Piccini, piccini Sa che arriva l'acqua Sa proprio di sì Visto che Nadine ora sa meglio Siamo riusciti a fare finalmente La nuova challenge con i cani Le challenge con Nadine e Gnomo ci piacciono sempre tanto L'avevo vista da Jessica Praticamente posizionati al centro con Nadine e Gnomo A un certo punto scattiamo da un lato e dall'altro E lì vediamo i cani Chi sceglieranno di seguire Secondo me qualche idea potete già farvela Si accetta lo scommesse Adesso ve lo pubblico Uno, due, tre Vai! Uno, due, tre Uno, due, tre Sei pronta a provarci? Pronta Via! Gelato? No, non ho capito il gioco No, scusate Ehi, niente appuntamenti galanti fino a mercoledì Chiaro? Sei comodo? Adesso Grazie a tutti Grazie a tutti